La tana del frerito Ciao broderigno Sì lo riassumilo Riassumilo con la tua Interpreta Lo trovo io il titolo Se vuoi di questa Per l'altro il titolo ragazzi Deve essere abbastanza generico Per permettere all'impostore Di provarsi A inventarsela Tu non devi dare queste tips però Non devi darle Io sono Ma io il titolo Sì dimmi Ah beh il tanto li modifico un po' io i titoli Così almeno siano più difficili Però intanto capirete Quale è la vostra storia Allora Il primo turno Vorrei Che fosse Tra due persone E fin qua Ok Allora La storia Da raccontare È La seguente Protezione Testimoni Appartiene a uno di voi due Chissà di chi è Raccontate la storia E vediamo a chi appartiene Prego In chat Via pronostici Da chi dobbiamo Comin... Scegli te Vuoi iniziare te Voglio iniziare io Dimmi te Tanto io la so a memoria Comincia tu Ok Allora Non sapevo che titolo metto E ho messo testimone Protetto O comunque O comunque L'ho scritto diverso io Questa storia Contoconcisi Voleva me Voleva proprio In quel momento Far qualcosa Andiamo in macchina Le chiedo Un posto A Milano Dove Lei sapeva Che non passassero persone Andiamo In questo posto Iniziamo a fare le nostre robe In macchina Fino a che non vediamo Un gruppo di ragazzi Che ci filma Da Cinque metri di distanza La macchina Con noi dentro Mentre scopavamo Io Scendo dalla macchina Mi tiro sui pantaloni Cioè mi tiro sui pantaloni Mentre scendo Corro dai ragazzi E i ragazzi Mi dicono Se ci paghi Cancelliamo il video E ho speso Cinquanta euro Per far sì che cancellassero Il video davanti a me Vabbè Neanche così tanto Potevano chiederti di più Non mi conoscevano Ok Sottolino che se qualcuno Vuole alzare la mano Nel Tra Tra quelli Nel backstage Potete alzare la mano Per fare domande Che io vi vedo Ok Ok L'unico che non alza No Non credo che abbiano alzato La mano Vabbè Allora vado io Chiaro Vai coque Sentiamo la tua Vai coque Prego Allora Protezione Testimoni Allora Una volta Sono uscita Con un ragazzo Che mi piaceva molto Molto carino Ero tipo in Terza Superiore Seconda Terza Superiore Esco con questo ragazzo Insomma Facciamo una Passeggiata Per Verona Molto romantica Finiamo anche A letto insieme E Il giorno dopo Cioè il giorno dopo La sera stessa Lui praticamente Mi Mi racconta La sua La storia Della sua vita E E inizia A dirmi Che Lui ha una storia Complicata Ovvero che sta scappando Da Da una situazione Di Di mafia Che In cui i suoi genitori Erano Come si dice Dillo 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 Integrati Come si dice Inventalo I suoi genitori Avevano a che fare In qualche modo Con la mafia Ok E Lui A Verona A Verona Sì Sì Ok Lui però era a Verona Perché Scappava Scappava appunto Sotto alla protezione Testimoni Certo Scappava sotto La protezione Testimoni Aspetta 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 Non è Io non mi sono impegnato No la protezione Testimoni Perché sì Perché appunto I suoi genitori Erano stati messi In questa cosa Di protezione E ecco Io Niente Sto male per lui Io anche Gli avevo anche scritto Una lettera Una poesia In cui Gli dicevo Cosa pensavo Di questa cosa E come Insomma Avevo cercato Di essere molto empatica E Dopo un anno Avevo Avevamo smesso di sentirci Dopo un anno Esco con Uno dei Quelli che erano I suoi migliori amici Dell'epoca Che mi ha rivelato Che era tutto falso Ed era solo perché Aveva voglia Di prendermi per il culo Allora Vorrei innanzitutto Sottolineare che i pronostici Si sono completamente ribaltati Ovvero che 11 milioni di punti canale Vanno per Gioe Quindi ricordo Per chi sta guardando Che Uno dei due Ha inventato una storia Ok su questo titolo qua Quindi uno dei due Appartiene alla storia reale E l'altro l'ha inventata Bisogna capire Chi è quello che l'ha inventata Io avrei una domanda A Gioe Innanzitutto Che volevo chiedere Gioe Qual è il tuo body count 12 Quanto tempo è successo Che facevi sesso Regolarmente Con questa ragazza Con questa ragazza È andata avanti Per Un mese e mezzo Due Ed è stata la settima ragazza Dove la terza Era la mia ex ex Quindi avevo già avuto Relazioni Con due o tre ragazze E Ci tengo a dire una roba Era una fan Ah Vabbè non serviva a dirlo Immaginavamo Cosa cazzo Ci sta E la madonna Ragazzi Qualcuno ha domande Cristo Dio Qualcuno ha domande Ma io credo che le domande Siano effime La storia di Kokeshi Era un mix di puttanate Messe in mezzo Insieme Io non ho capito un cazzo Della storia di Kokeshi Occhio ragazzi Che Era un po' agitata Allora Occhio che Fica Nel senso Faccio una piccola premessa Cioè Occhio che uno potrebbe anche Far finta di raccontarla male Nonostante la storia S'è la sua Se vuole inculare tutti Io Faccio questa piccola precisazione Faccio questa piccola precisazione Fattivi domanda vicenda Cocca e Gioe Ok Gioe Sì Ti è pesato dare questi 50 euro Di Sottoricatto Sul momento sì Perché con quei soldi Sarei potuto andare a Troie Però in quel momento Non avevo bisogno Quella serata avevo Non hai pensato che Chi se ne frega Cioè hai fatto più Per lei Suppongo per galanteria Che per te No ma che cazzo me ne frega di quella Bro se questi video Escono in giro Che io che scopo Ma sei scema Ma che ti frega Tu sei un maschio Non è che Ti dicono Ah sfigato Stai scopando Cioè La macchina Con la targa Si vede la tipa Io che scopo Scema Sìè Yeah Cocchi invece te Domanda Domanda Ma questa poesia qua Quanto tempo c'è messo a inventarla? Cioè questa roba della poesia A scriverla dici? No 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 È proprio inventare il fatto che esista questa poesia Ma non l'ho inventato L'ho scritta davvero Dovrei anche averla conservata da qualche parte Una delle migliori che ho scritto in vita mia La riuscireste a prendere questa poesia? Non so nemmeno se ce l'ho in questa casa O se ce l'ho da mia madre Pensa a te Quella di Fabio Pensa a te Ho fatto dieci traslochi in quattro anni Ci sta Ci sta Io posso dire La tua storia là Quasi quasi crederei Che potrebbe essere anche vera Per un semplice cosa Che sono una sfigata Veramente Veramente facile Da malleare Da manipolare Io Sì lo so Veramente semplice Soltanto per questo ci crederei Però secondo me è un po' È un po' sgravato Verona Questo qua Scappava dalla mafia Eh ma non è colpa mia Se non era attendibile la storia È lui che mi ha mentito Mica io che sto mentendo a voi Penso Allora Infatti ci sta Sono io che sono scema e ci credo Allora è il momento Ha anche avuto Ha anche avuto più tempo per pensarla È lei Allora È il momento del verdetto Vorrei che si cresse un po' di suspense I pronostici sono chiusi Quindi Come sono andati i pronostici? I pronostici sono Della tua parte Cioè la maggior parte Pensano che la storia sia Sia tua Quindi magari hanno Hanno vinto Magari hanno Miserabilmente perso Quindi Capiamo Capiamo un attimo Capiamo un attimo Quindi Adesso Gioe ti metto tutto schermo E ti chiedo Crea la suspense Che vuoi creare Certo Gioe Gioe Come cazzo L'hai raccontata La tua storia Mamma mia Cresne Ma volevo ingannare le persone Scusami Eh ho capito Ma hai inculato tutta la chat E beh E beh Sti cazzi Imparano a credermi Per gli altri ospiti Ragazzi È difficilissimo È difficilissimo Inventare Ma poi con protezione Testimoni Io quando Io quando Lei ha iniziato a raccontare Dalla mafia Cetera Ho detto Ah porco Ecco che cazzo Volesse dire Protezione Testimoni Infatti Cosa c'entrava Protezione Testimoni Ma niente Non c'entrava niente Tutta la storia Ragazzi Io l'ho detto Però è Simone Che l'ho un po' cambiata Bravo 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 Gioe Ragazzi Avete perso Veramente Veramente tutto Quindi è il momento Il momento del prossimo turno Gilbert Hai capito Il format? Io capisco Bravo Cercare di inventare qualcosa E fai creare a gente Che è vero Come può essere vero Come può essere falso E avere Gioe 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 A far capire A gente Che è vero Lo rispiego Un'ultima volta Per le persone Che sono appena Entrate Mettiamo caso Che capitano Gilbert E Jody Sia Gilbert Che Jody Hanno scritto Un messaggio Con un titolo Della propria storia A Simone Mettiamo caso Che Simone Legga il titolo Ad esempio Quella volta Che sono Ucciso una persona In discoteca Esempio Mettete caso Che quello Il titolo Della storia Di Gilbert In quel caso Gilbert racconta La sua vera e propria storia Mentre Jody Ne inventa una Totalmente a caso Ovviamente Coerente col titolo Una volta Che finiscono Entrambi i racconti Noi ospiti Loro Tra di loro I concorrenti Si fanno domande Eccetera Per trovare La vera verità Della storia E alla fine Si scopre Chi ha Detto La storia Vera E chi ha detto Invece La minchiata Gioe Credo che L'avessimo capito Già tutti Coc Ma è importante Spiegare Però c'è anche Da dire Coc Che la gente Man mano Entra in live C'hai ragione C'hai ragione Esatto Insomma ragazzi L streamer Allora Prossimo Prossimo duo Molto molto importante Abbiamo comunque scoperto Che la qualità Di storyteller Di Coc È pari a zero Sì Come quella di Corre È stata la mia strategia Strategia di merda Coc Hai perso Si Certo Vuoi di creare dolore Incevo se facevo Indovinare le persone Che era mia No No La cosa è che Lo scopo È che ognuno Convinca gli altri Che non ha la tua Così è solo Tra l'altra gente È solo fatto una brutta figura È solo fatto una brutta figura Coc Cioè Se no Così ha aiutato Ha aiutato la gente A perdere punti Esatto Scusate chat Brava Brava Coc Un po' di Sì Io posso dire Che mi sento Un po' di vergogno Sulla spalle Io posso dire Che mi sento mortificato Per la chat Perché vi ho rubato dei punti Ragazzi Da chat di Grimod Mi dispiace Non volevo assolutamente Scammarvi dei punti Più che altro Io ho fatto il mio lavoro Che mi ha chiesto Simone Il problema non sono io Sapete tutti Che è il problema In questa casa Il problema dei capelli azzurri Jody No mi odiano i chat Secondo me Prima Prima che Coc raccontasse la storia La gente aveva capito Perché Gio è un po' esagerato All'inizio Ha fatto Io la sua memoria Cose così Quindi era palese Cioè io almeno L'ho capito Penso di essere pretenzioso Ma l'ho capito da subito Che Gio è stata per sparare La minchiata Io no Ti penso di quante benzogne Posso raccontarti Con me è facilissimo In effetti Però L'ho chiesto di un botto Vabbè Allora Prossimo duo Cosa Se non vi dispiace Lascio Gilbert in mezzo Se non è un problema Allora Ragazzi No dai Ti prego Non riesco a concentrarmi Così Il titolo della storia È Una difficoltà in più Il titolo della storia È Sesso E skyline Allora Vuoi cominciare tu Jody Parma è indifferente Va bene Inizio 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 Allora Praticamente Qualche anno fa Cos'è successo Io Mi sono ritrovato A Samsara E ho Conosciuto Una ragazza Ovviamente ero single Era nel 2018 Conosciuto una ragazza Che era Una ragazza molto provocante Ok Una bella Ragazza Un bel fisico Tutto quanto Io non avevo mai avuto Nella mia vita Una one night stand E quella è stata La mia prima One night stand Che Perché praticamente Ah sì La one night stand Significa quando Di base Incontri una ragazza E ci vai a letto Lo stesso giorno In cui La conosci E di base Dal giorno dopo Potrebbe finire tutto Ok E Finisce Di base Sì Cos'è successo Al Samsara E Poi Mi ha portato in mare Proprio al Dentro al mare E mi ha Aveva voglia Di farlo nel mare Abbiamo provato A farlo nel mare C'erano le onde Io che non sono mai Stato questo Questo tipo di ragazzo Ho detto Sai che c'è Sentimento da perdere Adesso le dico Se vuole venire a casa mia Perché i miei erano Io avevo casa con i miei Quell'anno I miei erano Già partiti Il giorno stesso E io dovevo Partire poi Dopo il Samsara Però avevo le chiave Per riprendere La mia valigia Tutto quanto Tu vuoi venire a casa mia? Mai detto una ragazza Nella mia vita E lei fa Sì E io mi sono sentito Un grande Allora Siamo andati La casa che avevo Tra Proprio alla fine Di Misano Adriatico Il confine tra Misano E Riccione Siamo saliti su E Praticamente Cosa è successo? A parte Una Una roba Proprio Stupenda È stato proprio Bellissimo Due volte L'abbiamo fatto Penso anche di essere Andato molto bene Magari poi potrà Confermare la ragazza Nel caso Salutiamo E E cos'è successo? Perché skyline E sesso? Perché a un certo punto Dopo la prima volta Che l'abbiamo fatto Siamo scesi Dove c'era la vetrata Del salotto Di casa mia Dove c'era la skyline Di Riccione E lei mi ha guardato Tipo Ma lo facciamo Qua Non sarebbe male Io ho detto Non c'ho voglia Poi però Quando siamo risaliti E è ripartito tutto Fa Aspetta Siamo andati giù E l'abbiamo fatto Davanti alla skyline Di Riccione Ok Ok Beh È raccontata bene Comunque È stato Abbastanza Sono abbastanza appassionato Di questa storia Va ti racconti La vera versione qual è Allora Io Insomma Sono andato a Dubai Per lavoro Ok Durante il covid Sono andato a Dubai Per lavoro Io facevo un programmatore Non so se tu lo ricordi Sì Ricordo Perfetto E quindi Facendo il programmatore Trasfertista Comunque viaggiavo spesso Ho stato in Sudafrica Ho fatto un po' di Di viaggi Ho stato anche a Dubai A Dubai E a Dubai C'è una famosissima skyline Ok Cioè la skyline di Dubai È una delle più famose Al mondo Cioè a livello visivo È incredibile Più che altro Perché palazzi Dubai Molto luminosi Tanti Tanti effetti Comunque luminosi Di luce Quindi è molto figo Vederlo dall'alto E quindi cosa ho detto Io sono andato in trasferta Con un altro ragazzo italiano Ok Quella sera lì Purtroppo Lui Aveva una gastrointerite Ok Perché ci sta anche un po' Il cambio di clima Tra Dubai e l'Europa Quindi Era accesso a questa cosa qua Io ho deciso Di andare In un ristorante Che era In uno delle sommità Di questi palazzi Solo che questi ristoranti Qui sono tutti Chiaramente Devi avere almeno 21 anni 20 anni Non mi ricordo Perché poi dipende Dai locali E E niente Io Casualità Ho voluto Che sono andato Accendere uno di questi locali Da solo Da solo E Ho fatto amicizia Con la cameriera E' stata una di quelle volte In cui vedi La tipa E dici Ok Questa è l'occasione Della mia vita Devo per forza Devo per forza Riuscire A A staccarle Il numero di telefono O comunque qualcosa Per rivederla Anche perché giù Parla molto bene l'inglese Io non è che sono Molto ferrato Però comunque Mi faccio capire E Figa Sono riuscito Quando l'ho chiamata Per fare Diciamo Refill Del vino Che avevo ordinato Le ho chiesto Invece che il numero Quando finisse Di Lavorare Ci siamo visti Dopo E in tutto questo Casualità Ragazzi Questa sfondata Di soldi Aveva una camera A qualche piano Più sotto Di questo Hotel Allucinante E abbiamo Abbiamo fatto Su balcone Con una vista Wow Skyline Mariosa A Dubai Ok Faccio una piccola domanda A entrambi In realtà Come mai Tra tutti i dettagli Di questa Che questa storia Possa avere Perché Perché il dettaglio Skyline Qual era La rilevanza Di questo Skyline Nella vostra storia Jody Vez Prima Jody Allora Beh Forse Skyline Dire skyline Di Riccione Sembrerebbe Avere più senso La skyline Di Dubai Ok Perché non è che Riccione Ha i grattacieli Però siccome Il palazzo In cui stavo io È comunque Più alto Della media Delle case Che ci sono A Riccione Comunque Avevo proprio la vista Avevo a destra Il mare E poi la vista Su tutto il lungomare Di Riccione E quindi c'era Uno skyline Praticamente E perché proprio Lo skyline Mi ricordo Perché Mi ha proprio Detto la frase Facciamolo davanti A Riccione E quindi È avuto Cioè Mi è rimasto Quel tipo di immagine Skyline No Lo so Lo so Però C'è Per enfatizzarla Un po' Ci sta No in realtà Io semplicemente Mi è venuto in mente Prima Cioè Mi è venuto in mente Prima Conosco il termine Conosciutissimo Cosa di Dubai Abbiamo fatto Sassu Un cazzo di balcone Con il vetro Che guardavamo I palazzi davanti Skyline Mi è venuto in mente Prima In realtà Sesso Era una cosa successa Quindi basta Tutto qua Io avrei una domanda Per il Vets Perché vabbè La storia di Jodie è falsa Però vorrei sentire Il Vets Un attimo Una roba Vets La cameriera Uno Di dove era Due Cameriera Sfondata di soldi Sì infatti Io questo cazzo ti devo dire Non è che io ho chiesto a lei Da dove venisse Comunque non era di lì Non era di lì Non ricordo Di dove fosse Sinceramente Non sono più I criptoguru Sono le cameriere No vabbè Non ti sto dicendo Che era una cameriera Sfondata di soldi Avevano un bel appartamento No hai proprio detto così Invece No ho detto così Ho detto che Aveva una casa Della Madonna Vets Quindi conseguenza Quindi magari Qualche magnaccia Gli ha regalato La casa Allora Io ti ho semplicemente Detto che aveva Una casa Della Madonna Aveva Cristo Di un appartamento Con vista sulla skyline Di Dubai Una roba fighissima Io adesso non so E comunque Dubai Quando lavori In certi contesti Vets come si chiamava Questa ragazza Ma non lo so Ma zio ma scusa Ma tu ti ricordi Tutte le tipe Con cui hai fatto sesso Come si chiamavano Bro Nome e cognome Data di nascita Non sono come te io Io devo lavorarmeli Prima di scoparmi Ma no 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 Poi Jody anche te Minchia Il Vets ha detto subito Oh Jody dai Racconta te per primo Allora E tu Ero al Samsara Cioè potevi dire Qualsiasi città del mondo Dai Ma ragazzi Sì ma C'è stato Settimana scorsa Sì Sì è la prima cosa Ma poi scusa Posso dire una roba Posso dire una piccola cosa Chi è che ha mai pronunciato La parola Skyline Quando si parla di Riccione Ma chi l'ha mai fatto Forse sono d'accordo Io vorrei chiedere una frase Al conduttore Conduttore L'hai scritta te Skyline O te l'hanno scritta uno di loro due Nel messaggio L'hanno scritta uno di loro due Bella Jody Dai Ciao Ciao Ma io O l'ha scritta Jody O l'ha scritta Bez Qualche domanda Eh Qualche domanda È tutto molto chiaro Qualche domanda Coc Io domande Io ho votato per Bez Cioè palese Mi spiace Jody Ma non Non ho domande Comunque mi sembra abbastanza chiaro Ok Allora Ti petri le domande No Jody è appena nominato Ma sarà che ci abito E ci lavoro Quindi mi sembrava palesemente Una stronzata Però Non volevo dirlo Perché era troppo palese Perché io comunque Sono lì tutti i giorni Sì Però Sei lì tutti i giorni ora Ma io ci sono È successo il secondo anno Che esisteva il Samsara Questa cosa Io vorrei fare una domanda Leti La direzione Non ha proprio senso Anche perché Se tu hai detto Che avevi L'edificio A Misano Come fai a vedere Il viale Ceccarini di Riccione Non ha senso proprio Sul tetto era Non ho detto Viale Ceccarini Non ho detto Viale Ceccarini Ho detto Riccione Era Era Bisognete dove c'è il C'è un bar Dove c'è Un bar Dove c'è il cartello Riccione Ok C'è Dove c'è il cartello Riccione C'è un bar Che sopra Degli appartamenti E io Da L'appartamento lassù Che si vede Appena entri A Misano Da Riccione Io avevo la vetrata Da cui ho visto Da cui vedevo Riccione Partire Essere Riccione Stai mettendo in difficoltà La gente con il nome Misano Perché nessuno Conosce Misano Posso fare una domanda A Leti Leti In 24 anni di vita Che stai a Riccione Tu hai mai sentito Qualche persona Di lì Dire Skyline No Infatti mi ha fatto Molto Mamma mia Per dire Per dire La Skyline Cioè Gilbert Vuoi fare domande Ma sono bassi Tanto Di difficili Comunque Io penso Che la storia Di Jody È Avvicina il microfono Gilbert Non riesce a capire Bene Capito C'è C'è Tante cose Che non riesce A coincidare Ok Quindi secondo te È falza Cocchi Sì Sì Da te come sono andate Le bet Simo Ma qua mi sa Che si sono buggate Per ora Era 15 milioni Jody 9 milioni I bet Però credo Si siano buggate Perché leggevo in chat Che dicevano Che si sono buggate Ma 68% Sul bet Rifacciamo la bet Però ragazzi Io vi garantisco Se non volete Perdere punti canale È mia la storia Ma frate Ma come fai A dire che tu Ha sta storia Rifacciamo la bet Adesso Rimborsate questa bet Qua Cos'è meno Tutti Scusa Casualità Voluto C'è casualità Voluto Probabilmente Hai visto Letizia Comparire in questa diretta E ti è venuto in mente Il samsara Di Riccione Ma poi Chi cazzo scopa Nel mare di Riccione Che ti prendi Il sorbio La scavia Non avresti più Un pisello Se avessi fatto Veramente Nel mare di Riccione Non avresti più Un pene Non saresti qua A raccontarcelo Probabilmente Ma l'avete rifatto Ho provato Un attimo Eh Mi ci dici Oh è molto Molto pari Ho provato Un attimo Allora Io ho bisogno Allora Vabbè Però io sono indecisa Potrei giocare Potrei giocare una carta Un po' Unfair Potrei chiamare Mauro Bianchi Confermare questa cosa Eh Allora Jody Ma non è che dobbiamo Dobbiamo far diventare Altre persone No aspetta Aslouf Una clafta Che era Il proprietario Coglione Cioè dai Ma poi aspetta Jody In tutto ciò Tu hai detto Che l'appartamento L'avevi preso Con i tuoi Mauro Ma i tuoi dove erano? Eh? Tu hai detto Che l'appartamento L'avevi preso Con i tuoi I miei erano Partiti pomeriggio Io ho fatto L'aperitivo al Samsara E poi dovevo Partire Leo Leo Tuo fortello Leo No dove era? Ah Leo Non mi ricordo Eh No no Eh Jody Almeno non ridere Fai finta che sia seria La cosa Allora A me era venuto Il dubbio Mi era venuto Il dubbio Quando Gioè Ha chiesto Al Bet Del fatto Della cameriera Dell'appartamento Da milionario Lì mi è venuto Un attimo Il dubbio Adesso Jody Ti stai mettendo le mani Nella marmellata È figa Nella merda Nella merda Sì Un marmellato Dei fichi Chi è Leo Scusate Il fratello di Gio Il fratello di Gio Il DJ Allora Allora Aspetta Quindi io adesso però Oltre ai pronostici Voglio sapere Quindi voi Gilbert Letizia Koch E Gioe Quindi in definitiva Di chi pensate sia la storia Vez Anche secondo me Vez Anche io A me Gilbert Mi fa morire Come mai Jody Eh Come mai Cosa come mai Perché dovrebbe funzionare Ti fa morire proprio Gilbert Gilbert Ah perché Perché Prima L'ho amato Quando l'ha inquadrato E ha semplicemente sorriso Veramente bello Assolutamente un grande Era così fatto Allora Adesso Jody Ti metto tutto schermo E ti faccio questa domanda Crea il suspense Che vuoi creare Tutto quello che vuoi Jody Lorenzo Grazie mille per il sesto mese Vento la due falliti Mi parla Grazie mille Lorenzo Per il sesto mese Boh Ti si sente Gioe Ah scusatemi Mi parla dove hai falliti Scusate 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 No tranquillo Jody La storia Sesso E Skyline Appartiene A te Voglio dire a Vez Vez La storia Sesso E Skyline Appartiene a te Altro di cuore Un po' di Monna La storia Stesso Skyline E di Jody Che cazzo Dici Non è vero Minchia Inculati Ma che cazzo Inculati tutti Ragazzi Siete di polli Siete di polli Dai raga Ma la storia di Vez Che cazzo storia era Ma mia Forse una volta Una volta L'ho più raccontato Sul canale De Sam Sara Di questa cosa Sai Posso dire una cosa Vai Gioe Meriti Meriti di Vez Che De meriti di Jody Cioè Vez è stato veramente Bravo a raccontare Vez l'ha raccontata Veramente bene Gilbert Ti riesci a scrivermi Un titolo Secondo me Il problema Era il titolo Cioè Sesso e Skyline Non era proprio Azzeccata Per la storia di Jody Punto Sì Sì è vero Come dovevo dirla Cioè Sesso e riccione Sesso e mare Sesso e acqua Cazzo so Sesso e mare Non è la cosa La cosa principale Era io che guardavo Riccione E facevo così Cioè Dall'astro di vista Gilbert Riusci a mandarmi Il titolo di una storia Deve essere migliore Gilbert Ok Ok Vai Sì Sì Mandami sullo zap Un titolo Dai Quindi Gilbert Eleti adesso Eh sì Round finale Veramente il sogno Gran finale L'ho già visto Da qualche parte Questo inizio Veramente bello Veramente bello Adesso vediamo Che titolo Uno mi ha scritto Oh Timo Sono Adam Ha scritto Ho perso 300.000 punti Porco di uno Giber ci sei? Aspetta Ma di più voglio sapere Chi è però Sì Io lo conosco La conosco A voglia Ci sei tutti i giorni assieme Ma cosa dici? Ma va Sì 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 Assolutamente Minchia Giody Comunque è un bel toro Due volte No ma guarda Penso che è stata Non me ne vogliano Le mie fidanzate Le tue fidanzate No Però Dillo 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 A livello mio Di instancabilità Non so che cazzo Mi hai preso quel giorno Solo quel giorno? No Poi ci sono state altre occasioni Quindi è stato il miglior sesso Della tua vita intendi È stato il miglior sesso Warman È stato il miglior sesso Della sua vita Mamma mia Si ricorda anche il tuo nome Jody Ma hai il suo numero Ancora no Dai chiamiamola in diretta Vediamo Chiamala No Dai chiamala Chiedi Allora ti ricordi di me Lei Chi? Saluta Chiara Ma certo Guarda che Beh ben base È su Skyline Venga Guarda che Allora ti dico cosa è successo Questa ragazza Ha pure No non lo posso dire Perché poi magari la sgamano Dai Dai Non la sgamano Non la sgamano In una vecchia fributata Di una clip In cui parlavo di lei Sul canale del Samsara Lei ha tipo Ha tipo commentato Confermo Ero maggiorenne Ma su YouTube Su TikTok No adesso basta Dare questa informazione Vabbè Jody Non mi sembra che lo voglia nascondere Lei eh Da quello che ha scritto Esatto Esatto Lei probabilmente ha scritto Nel curriculum Chiamata al Samsara Chiaramente Esatto Chiamata al Samsara Scalainata al Samsara Amato Con il titolo del Samsara In note Ci ha scritto Un vostro caro amico Mi ha No però ti posso dire Non ti vado a vedere nei VOD Jody Gilbert Sei riuscito a scrivere Dell'anno scorso Ti aspetta Come dell'anno scorso Hai detto 2018 Gilbert Sono un titolo No Non hai capito 2018 E' quando è successo Io ho parlato di questa cosa O all'inizio di quest'estate O l'anno scorso Non mi ricordo Martina Ma Jody Posso farti una domanda E' il ricordo che me l'hai chiesto Io? Mi ha detto Dormi eh Ma si chiama Martina Jody Jody posso farti una domanda Eh Metti caso che questa ragazza Al Samsara Inizia ad andare in giro a dire Comunque due anni fa Ho fatto sesso con Jody Dopo una serata al Samsara Ti darebbe fastidio? No Ok Voi mi chiedevo Eh Aspetta un secondo Nel senso Non me ne vergogno Anche perché Non ho fatto nulla di male A nessuno Cioè No si 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 Però dico Lei che magari Cerca un po' di Clauto Di Visibilità in giro Dicendo E ho scopato con Jody No ma poi Non è il tipo Lei Una tranquillona Una lavoratrice Una brava ragazza Bene E voglio un attimo Vai Il titolo Il titolo è arrivato? Sì No Gilbert purtroppo ha fatto un piccolo errore grossolano Che ha mandato il titolo Che si è visto in live Aspetta Come si è visto in live Sì C'è uno spam in chat Solo con il titolo Pensa Agli occhi di tutti Però adesso Gilbert devi cambiarlo No Gilbert Non lo stesso Devi scrivere un'altra storia Gilbert Ma che figlio ha fatto? Eh Ha aperto WhatsApp È lì Ma sono il telefono No 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 L'ho capito Scusate Sono lei anch'io Sono lei anch'io E Dai una battuta ragazzi Una battuta Madonna Vez Comunque ti vedo un po' spento Dopo Il racconto di prima Ma perché avrei voluto Che fosse successo veramente Gio Era veramente una bella storia Beh Non ho fatto sesso Da un sacco di tempo Quindi Sono un po' giù di morale Ad almeno due mesi Un po' giù di morale Due mesi tanto tempo Anche io Io mi avvicino Prendo le distanze Non ho neanche capito Io Anche io sono in live Non l'ho visto Minimamente Portate Portate quello Gilbert Ciao Fede Scusa Gilbert Oh sta scrivendo No tizia Ma che cazzo di permetti Perché ridi Leti No Mi fa ridere Simone Ma tu Leti Domani sei in live 24 ore Sì Minchia che voglia Ma dal samsara Ti vengo a trovare Ti vengo a trovare Certo Va bene Wow Ma che ora Quando vuoi Dai Alle 3 Di notte No di giorno Va bene Di notte Va bene Va benissimo Tanto sono svegli Comeriggio Ma a che ora Attacchi la live Domani Dalle 19 Alle 19 Ah Quindi non ci sei domani Alle 3 in live Allora alle 15 Il giorno dopo O alle 15 Il giorno dopo O alle 3 di notte Se vuole Ok Ok Ma Gilbert Mi hai scritto Lo stesso titolo No 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 Cioè Io ho cambiato Un po' No Gilbert È praticamente Identico È un sinonimo Gilbert Ti prego Ok Allora No Ok Facciamo così Ok Vabbè Però se leggi L'altra È totalmente Diversa Si capisce La storia No ok Dai Proviamo Allora No scusaci Ho tolto anche le tifiche Ciao Scusami Senta Ok Ecco Trovate un fuso Ok Allora Il titolo della storia Che Dovrete raccontare entrambi E solo uno di voi racconterà La reale storia Mentre L'altro deve inventarla Il titolo È Splatter Inizio Tu inizia Inizio io? Sì Allora Questa storia fa ridere Ma in realtà è stato molto imbarazzante Ero in terza vita E quando andavo alle medie Non so se Anche Quando andavi alle medie Ma si mettevano sempre Le ragazze si mettevano i leggings neri Con Lo short Di jeans Corto sopra Sopra Leggings E niente Mi dovevano interrogare In In storia E io ero seduta Tranquilla Al mio banco Fanno Petris Interrogata Io Già Mi metteva un'ansia Allucinante Questa cosa E Quindi sono andata un attimo in panico Non avevo studiato Ovviamente Quindi mi sono Alzata E sono andata Alla lavagna A rispondere Le domande Perché dovevamo fare degli schemi Delle cose Alla lavagna Il problema Che mi sono alzata E mi era arrivato Il ciclo Quindi io avevo Una macchia grande Così Sul sedere Rossa E Io ho sentito La mia classe Dietro Che hanno cominciato A ridere Tutti quanti E io non capivo Perché ridessero E Continuavo a scrivere Ma Loro continuavano a ridere E a un certo punto Uno Ha deciso di alzarsi In piedi Urlando come un matto E dicendo Ma perché Stai sanguinando Oddio Che impressione Che schifo Io mi giro E ho detto Cosa sta succedendo E Faccio così E ho detto Non è vero E Quindi Di conseguenza La mia maestra La mia professoressa È andata in crisi Mi ha Si è presa lo scialle Me l'ha messo Intorno al culo Praticamente E mi ha buttato Dentro Il bagno Delle medie E E quindi Questo è stato Abbastanza imbarazzante Perché È stata la cosa Che mi ricorderò Per sempre E quindi Sono andata in giro Tutto il giorno Con lo scialle Della mia prof Intorno al sedere Perché avevo Una macchia grande Così Di sangue E quindi Basta È la storia È la storia È la storia Due anni fa Andavo a scuola Qui In Italia E Non sapevo nemmeno Parlare bene Italiano Ero a scuola Ero a scuola E Ci arriva una ragazza Proprio Bellissima E Che mi piaceva tanto Ma io non sapevo nemmeno Come Andare da lei Lui fa capire Che davvero mi piace E tutto E ogni giorno Quando arrivavo a scuola E lei mi guardavo Sempre La ragazza E la ragazza Comunque Avevo Lo stesso sentimento Su di me E Un giorno Mi sono detto Ok Nanna Oggi Devi fare un passo E sono andato Da lei E La prima cosa Che sapevo dire Buongiorno E Niente più altri E lei mi guarda Io Prendi il mio telefono Fai la traduzione E la fai vedere E le guarda E leggi E Le accetta E scrive E mi fai guardare In francese E io leggi E un giorno All'uscito Della scuola C'è sei genitori Che sono arrivati E Se i genitori Non volevo Che io Fai l'amicizia Con i loro figli E La ragazza Mi voleva Proprio 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 Bene Un punto Che Io L'amavo A un punto Che Era la prima volta Da quando sono arrivato In Italia Che mi sono innamorato Di una ragazza italiana Per me Era un po' Capito Un sentimento Troppo forte Perché la ragazza Era proprio dolce Come Omi Dei miei difetti Che non sapevo parlare Non sapevo niente In italiano Lei Cercavo sempre A capire Quello che voglio fare E tutto E un giorno Vicino Dove avevo La scuola E la scuola E siamo Siamo visti La prima volta Lì Tutte due E abbiamo fatto Le cose Troppo belle Perché l'intensità Di sentimenti Era proprio Molto Molto forte E dopo E dopo lì Era l'ultima volta Che siamo visti Perché A casa Quando lei era tornata A casa Le sue genitori Hanno saputo Che era con me E L'hanno accettato Di tutto E Io ho dovuto Lasciare tutto E scappare Per Per Non la fare Di male Perché Più Andavo da lei Più a casa Lei stava sempre male E io ho scappato Sono andato via Era in Calabria E sono andato A Milano Viverli E E Fini a oggi Non si sentiamo più Perché dopo Le sue genitori Hanno cambiato Sui numero E tutto E tutto E un po' questo Storia molto Molto Toccante Gilbert L'unica cosa Cioè Una storia Veramente toccante Devi raccontare Una storia Vabbè Ormai Cioè Si è capito Ovviamente La storia La storia Di Letty Petris E Gilbert Racconta La sua Molto bella La storia Gilbert Molto toccante Ma Sei molto dolce Comunque Grazie Sì È stato molto dolce Con questa ragazza E Comunque Io la Io la Volevo bene Quando vuoi Che qualcuno Bene Penso che La prima cosa Simone È un figlio di puttana Cioè Veramente Mi vedi E mi metti Dentro lo stesso Comunque Letty La tua storia Non mi sembrava Molto convincente Perché io ho visto Una serie tv Che era successo In un episodio Mi ricordo come si chiama Era una serie tv spagnola In sta serie tv Era successo La stessa identica cosa Quindi Secondo me Questa storia Non è né tua Né di Gilbert Cioè Gilbert Tu la potevi trasformare In splatter Sta storia In qualche momento Allora Sottolineo Sottolineo Che Non è escluso Che io posso aver Detto un titolo a caso Infatti La storia di Letty Zio Io l'ho vista Precisa In una serie tv Su Netflix Una di quelle cagate spagnole Tipo Paso Adelante Eccetera Una roba del genere Poi posso dire una roba Letty Ai 24 anni Una storia così Delle medie Mi sembra un po' Troppo assurdo Che la sai così bene Beh Magari è stata La storia Che è talmente Tanto Cioè Travolto Che Allora facciamo così Rimborsate questo pronostico Non lo so Perché comunque Gilbert ci ha raccontato Una sua storia Che è una storia molto Beh Bella Nel senso Una storia molto Personale della sua vita Facciamo un nuovo pronostico Dopo aver rimborsato questo Se la storia di Letty È vera o falsa Perché adesso Sorge un altro dubbio Adesso voi direte Vabbè Sicuramente vera Votate pure sì Fate come volete E poi questo qua sarà La Come dire Il Il verdetto Sulla storia Solo di Letty Petris Ok Andiamo Sì Jody Vez Coc Ehi Siete Ci siamo Ci siamo Ok perfetto Gilbert tutto a posto Tutto a posto Brande Gilbert Un mito Brande Brande Perfetto Allora Gilbert posso dire Che mi hai Genuinamente Commosso Con questa storia Ma Gilbert è un grande Ragazzi E posso dirti Che il trasferimento Che hai fatto a Milano Che da quello che ho capito Ti ha portato ad avere Una nuova carriera Eccetera Mi ha Cioè mi ha fatto proprio Felice Che hai subito Questa tristezza Di andar via Dalla Calabria Da questa tipa Però a Milano Ho trovato fortuna Quindi sono veramente Contento Ho trovato fortuna A Milano Appunto Per il background Della storia Che hai raccontato Grazie bro Comunque Gilbert Sei veramente Una bellissima persona Hai visto che Stanotte per sbaglio Ti ho Dico sta roba Che ho detto Anche all'inizio live Stanotte per sbaglio Ho chiamato Gilbert In piena notte E Gilbert Subito Dopo un secondo Mi ha subito richiamato Veramente Cioè Perché Pensavi avessi bisogno Di aiuto Non lo so Cioè è stato veramente Ho veramente apprezzato Tanto questa cosa Perché mi era partita L'ha chiamata per sbaglio E tu subito Gilbert Ti hai subito richiamato Veramente è una roba Che non ho capito Chissà cosa fare Chissà cosa fare È perché l'amicizia Per me È la prima cosa Io Tengo tanto All'amicizia E Quando voglio Che qualcuno bene È questo Lo sapete Che qualcuno Posso mi chiamare subito Sicuramente Ha bisogno Sicuramente È in pericolo Si posso rispondere O rispondere subito E Quando ci mi ha detto Che non la chiamata È andata E Va bene E sapere che è tutto a posto Io sono un po' Questa Qualità di persone L'amicizia per me Lo tengo Troppo 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 A cento per cento Però visto che ci sono Le bette in corso Qualcuno ha domande Per la storia falsa Di Letizia Quante ne avevi? Io Letti Quante ne avevi? Ero in terza media Avevi già il ciclo? Mi è arrivato In terza media Vabbè Sì è però La prima volta Primissima volta Che ti arriva il ciclo Ti arriva così tanto Può essere Può essere Può essere Sì Può essere Hai un po' Il ciclo Gile Perché tu Mi hai fatto Il ciclo Sei un attore Gile Cos'ha detto? Sei un attore Gile è un attore Non ho capito Laga No Gile Mamma mia Ragazzi Mamma mia Sei troppo forte Però Sei troppo forte La giornata Comunque Letti Qualcuno Cocca Hai domande per Letti Visto che anche tu Esplodi di sangue Ogni mese Non ho detto Questo Vediamo Aspetta Ci penso Ma sono finite le bet Sì sono chiuse Ah sì è vero Allora bisogna dare risposta Tanto non ho visto Non ho visto quanto Come sono andate Me le sono perse Comunque mettiamo tutto schermo Letti Petris Dimmi Gio Io ci ho provato in tutti i modi Simo a darti modo Di rifare le bet Cioè ci ho provato in tutto Sì ma mi spiace Mi hai fatto bene No mi hai fatto bene L'hai girata bene Letti Petris Splatter La storia era tua O non era tua? Era vera o no? Più che altro Suoria Era Era Ed era vera Perfetto Perfetto Direi che concludiamo Veramente Veramente in bellezza Anche con una storia in più Di Gilbert Che ci ha raccontato Un'esperienza Un'esperienza di vita vissuta Veramente Veramente divertente La storia di Gilbert Bellissima Mi ha toccato particolarmente Molto bella Io avevo un po' paura Per il discorso Splatter Ho detto Come potrebbe mai diventare Splatter Non so neanche cosa vuol dire Splatter 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 è il film Il film horror dove c'è tanto sangue Esatto Per dire Lo Splatter Tu non sai cosa vuol dire Splatter Se tu ti fai una battuta Con uno Splatter dentro Tu non la capisci Vabbè zio Credo che nessuno mi farà mai una battuta Con la parola della Splatter dentro E' abbastanza usata E' molto usata Splatter E' anche un genere di film Splatter Io non l'ho mai sentita Splatter Mi sembra veramente strano Ci sono ancora storie vero Che non sono state raccontate Sì La metà Sì Esattamente la metà Vogliamo fare un round bonus Mi metto io Sì Ok facciamo così Facciamo così Un round bonus Chi è che vuole fare round bonus Facciamo che Fa round bonus Ragazzi Dici Giody Ragazzi Io lo devo lasciare Veramente Perché Perché Non va niente La connessione è frustrante Sentirvi a Infatti Non ce la faccio più Ma non ti senti andati io Questi fai una siega Vabbè Allora rimango qui Scusate Scusate Che Gimbo Che Gimbo L'ha beccato in pieno Comunque L'ha beccato in pieno Guarda Forse un bel segone Sullo skyline Completamente Sgammato Il bastardello Era esattamente Il motivo Per cui voleva andarsene Mi stava ripensando Alla chiavata Mi stava chiamando Chiara Che sta facendo la valigia Per venire qui E allora Però aspetta Dai Aspetta Allora non deve Farsi una siega Ma Farsela fare Concetto uguale Allora Chi è che le fa Ma non è qualche Ho capito Arriva e te la fa Insomma Ai sardegni Comunque è uno dei copriletti Più brutti Come hai visto Domani Ho capito Domani Vabbè Cosa Ti hai preparato È uno dei copriletti Più brutti Come hai visto Ma non è suo Ma è solo in hotel No lo so che c'è in hotel Bella la tv Tortina Però bella Molto molto carina Chi è che fa l'ultimo rato Facciamo io e te Gioe No se Vai Se nessuno ti propone Va bene Ricordiamo Che la storia Che faremo adesso Io o Simone Può essere O quella che Io ho scritto a Simone O la sua Ok Io devo scriverti Un titolo Perché no Facciamo così Lo scrivo No facciamo decidere a qualcuno Qualcuno deve un attimo Prendere le redini Dai le prendo Io le redini Ok Ok Beh sì Cocca Come vuoi Vez Ok Allora Ti scrivo il titolo Della storia di Gioe Ti scrivo il titolo Della mia E tu scegli Ovviamente Quale dire Scegliete una delle due Ok Aspetta No vabbè No Aspetta Fammi pensare Fammi pensare Fammi pensare Cocca Incazzata con Gioe Cocca Si è incazzata con Gioe Non è vero Perché dovrei No Che cazzo ho fatto Ok Allora Fai pensare Esatto Posso dire una cosa Io sono incazzato Con Io sono incazzato con Cocca Io stanotte Ero in live Stanotte stavo facendo le mie robe Eccetera Cocca Mi scrive in chat Fammi entrare Mentre stavo facendo Tinder Lei entra Si mette a aspettare la mia live Entra su Discord E si è fatta due ore di content Grazie a me Con Gli host Di tutta Twitch Italia Grazie A posto Alla calele Ok 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 Ci siamo Dai questa 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 Eh questa 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 No Eh simo Dive esserci anche te Però Sto spasando ragazzi Scusate C'è stato un piccolo errore Sto spasando Vai Ti metti il piccolo sotto Vai Leggila Scegli una delle due L'oratorio Ok Metto Metto il titolo Simo Primo ho iniziato io Vuoi iniziarti adesso? No Scelgo io Ah Vai Vez Scusami Sì Parte Gio Ok Volevo Volevo avere del tempo Per inventarla Allora L'oratorio Ci tengo a dire subito una cosa Io non sono Cristiano Cattolico Ma sono cristiano evangelico Nonostante ciò Io comunque Dai 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 Io però Non Cosa vuoi? No no Ragazzi Non Posso dire almeno non prendere in giro la mia religione? Vai vai Ok Comunque Nonostante ciò Io il mio oratorio Non ce l'ho Da cristiano evangelico Quindi Mi intufolavo Nell'oratorio Dei miei compagni di classe Cristiani cattolici Ero Abitavo a Proserpio In una provincia di Erba Como Ed ero in questo oratorio Dove c'erano tutti quanti i ragazzi Sarà stata o in primo o in secondo elementare Non mi ricordo benissimo E dicevamo che durante l'oratorio Prima della messa Perché io facevo soltanto prima della messa Io non facevo le messe perché ero esonerato In quanto evangelico Prima della messa Stavamo giocando fuori a pallone E mi ricordo benissimo Che ho tirato un calcio Alla palla Ho preso Una ragazza In faccia La ragazza Non ha sanguinato Non ha fatto niente Si è semplicemente Messa a piangere E quel giorno I preti Decisero Come punizione Nonostante Il mio esonero Dalla messa Di farmi fare lo stesso la messa Quindi io rimango lì a fare la messa Come punizione E a un certo punto Mia mamma Che mia mamma Mi stava aspettando a casa Non vedendomi tornare a casa Dopo mezz'ora Si spaventa Viene in oratorio Va dal prete Chiede cos'è successo Perché mi vede All'oratorio Non mi vede che c'era nessuno Alla dentro l'oratorio E arriviamo tutti quanti Dentro a fare la messa Entra dentro Non va direttamente Dal prete Ma da un don Un parco Non so come cazzo Li chiamate voi E chiede Ma mio figlio Giulio del Verticano È quel ragazzo là Eh sì Lui è l'esonero Perché non è cattolico Eh no In realtà abbiamo fatto Sta roba Blablabla Mia mamma Si è incazzata Come una iena E quella lì Ovviamente io poi Me ne sono andato Con mia mamma È stata L'ultima volta Per me All'oratorio Da lì Mia mamma Non mi ha più concesso Di andare all'oratorio A giocare con i miei compagni di classe Non ha bestemmiato il dio In chiesa No Ma essendo credente Non è bestemmia Ah Ok Questa è la mia storia Che Potrebbe capitare a chiunque Comunque Simone La mia storia in realtà È molto Molto semplice Concisa Non è molto complicata Da Penso Hai avuto tutto Sto tempo per pensarci Ce l'hai pure concisa E anche circonciso Allora È molto Molto semplice La storia Io andavo in questo oratorio Prima che mi Mi cacciassero miseramente Per motivi che non sto qua A spiegare E diciamo che ero Un bel bastardello Un grandissimo E vero e proprio Figlio di puttana Nel senso che ero Veramente Un vero e proprio Stronzo Nel senso che C'erano questi animatori Chi ha frequentato O frequenta Tutora l'oratorio Anche l'oratorio estivo Perché questo è successo Durante l'oratorio estivo Chi frequenta Gli oratori Sa benissimo Che ci sono gli animatori Gli animatori Che sono quelli Che mangiano il pane sacro E tutte le robe lì E dicono ai ragazzi Di giocare a calcio Che cosa succede C'era questo animatore Che mi stava particolarmente Sul cazzo Perché Così Ma in realtà Non è che avevo qualcosa In particolare con T.Lewers Ero semplicemente Un grandissimo figlio di puttana Cosa successe Un giorno Io ho decisi Che volevo fare Il passo più lungo Della gamba Questo animatore Era Rispetto agli altri Era un tipo che Bestemmiava un sacco Ok Cioè diciamo Un sacco di porconi Mi ricordo anche Quando giocavo al telefono Continuava a porconare A bestemmiare E a me Nonostante A me le bestemmie Piace essere Io proprio Vedere Gesù Che venisse massacrato A suon di insulti Mi rendeva quasi fiero Anche un po' Io Ho deciso Di fare una bella bastardata E cancellare Questo ragazzo Dall'oratorio Questo animatore Dall'oratorio Infatti io Ho deciso un giorno Di andare dal prete E dire Lui Bestemmia in continuazione E quindi Ho fatto questa Grandissima snicciata E Ho avuto Delle prove Perché io L'ho registrato Mentre diceva Delle bestemmie Con il mio telefono Gliel'ho fatta sentire E E quindi Questo ragazzo È stato completamente Allontanato Dall'oratorio Perché io L'ho snicciato Chiedo scusa Non mi ricordo Neanche come si chiamava Però era veramente Un pezzo di merda E io ho fatto Questa grandissima Infrazione Ma quanti anni Deviissimo Sarà prima media Dio ma Questa è la tua storia Lo stai scherzando Questa è la mia storia Cioè cosa Cioè scusa la cosa Non superi il culo Per registrare Mentre il bestemmiava No Avevo il mio telefono Ma poi In prima media Ero lì vicino a lui Avevo tenuto il telefono Ma che telefono c'erano In prima media Avevo le Galaxy Next Turbo Mi pare Non mi ricordo Next Turbo Next Track Mania Legend Sì Va bene Posso dire che io Non c'ho manco domande Posso dire che io Non c'ho manco domande Abbastanza scontato Ma per piccolo Era un prima media Per Dio Vabbè ci sta Ci sta Ma allora In realtà due storie Molto tranquille Cioè non sono molto Ah no Vaffanculo Questo qua L'immunizzava sempre Cristo Dio Mi sono ricordato adesso Quel pezzo di merda Ok Dettagli aggiunti No Dettagli aggiunti Perché Effettivamente Amiche Ero veramente Un figlio di puttana No Oh Cristo Dio Mi ricordo che questo qua Era un pezzo di merda Ogni volta che giocavamo a calcio Scegliamo Scegliamo le squadre E noi non mi scegliamo mai Perché ero scarso Ecco Piccola parentesi Andiamo avanti Chiaro È questione di sopravvivenza questa Non di essere Io non ho dettagli da aggiungere Quello che ho raccontato E quello che ho raccontato Fine Vabbè certo Le cazzate Non è che vogliamo aggiungere Altre cazzate Alle cazzate Lasciamone una Certo No magari a me ne viene Qualcuna in mente dopo E raggiungo dopo Certo Vabbè io volevo aggiungere un dettaglio Mi è venuto così di istinto E ho deciso di aggiungerlo Tutto qua Tu ovviamente immagino Che cazzate Ne hai voluto aggiungerne altre Ci sta Scusa ma tu Posso dire anche una cosa Io Il mio format principale È quello di raccontare storie Qua il Vez Mi ha detto È una storia un po' tranquilla Da entrambi È una storia Che non ci faccio il video su youtube Ed è una storia Che posso raccontare In questo tipo di format Ma non ci faccio Un video intero su youtube Beh meno male Ah poi meno male Sì sì Infatti lo so qua dentro Hai fatto bene Ma è una storia realmente accaduta Comunque da quel che ho sentito Mia mamma Io adesso non sono un credente Cioè io tutte le volte Prima di pranzo e cena Con mia mamma Fai la preghierina Prego Ma chi? Faccio la preghierina A Gesù Te la dico Signore grazie per questo cibo E provvedi per chi non ne ha Amen Questa è la frase che dico Tutte le volte per la di mangiare Ma aspettate Signore grazie per questo cibo Provvedi per chi non ne ha Amen Ok E questa cosa La faccio soltanto per dare Io non mi stimo davanti a mia mamma Ok Fai fidere che tua madre è andata un attimo di là Vabbè bro se mi capita una bestemmia Mi capita Cioè sti cazzi Però cerco in tutti i modi Di non far vedere mia mamma che bestemmio Perché lei È credente Proprio Tutte le domeniche È in chiesa E ti fa dire Iati di dolore Se per caso bestemmi No 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 L'evangelismo è molto diverso In realtà dal cattolicesimo È molto meglio Secondo me Crede nella Madonna Non crede nella Madonna In più non crede in tutto il clero Quindi non ci sono Don Parroci Papa Cioè se tu vuoi parlare con Dio Ti petti là con la Bibbia E parli con Dio Questo è Le macro differenze Tra il cattolicesimo evangelismo Tipo I testimoni di Geova Quindi per questo è tanto Era tanto incazzata Per il fatto che fossi rimasto messa Perché è proprio Mega sacrilegio in realtà L'ambiente proprio Era il sacrilegio in sé Sì L'ambiente del clero Sì Vabbè Ok C'è qualcuno che ha delle domande La piccola news Letty Petris Jody Cock Gilbert Gilbert Penso che La storia Sera di Joyce La storia? È la storia di Joyce Di Joyce? Sì Penso bene Bella eh Cock Eh no Io Ti conosco Joe So che Tu Tu avresti avuto In serbo Molte storielle Più simpatiche di questa Più interessanti di questa Questa è Chi cazzo se ne frega Di questa storiella Quindi se Eh ma il fatto è che Sono anch'io in live Se io faccio una storiella La maggior parte Sono già raccontate Ho capito Ma è La chat Di Simone Che deve indovinare Vabbè Ok E vanno Dalla chat mia Alla chat di Simone Neva che l'ha già raccontata Giù la ragione C'è Quello Ma potrebbe essere preso Come troll Secondo me Non è tua Perché hai deciso Di raccontare proprio questo Cioè solo per questo motivo Perché non l'avevi già raccontato Per questo motivo qua Ma Quindi Cock Secondo te È mio È sua Secondo me È tua Ok Sei mutata Aleti Aleti Petri Sei mutata Dio Cristo Benedetto Secondo me Di Joe Ok Vuoi dare una motivazione Ma Perché Non lo so Simo Io Ogni volta che parli Per me Mi stai tipo Trollando Malamente Minca Che uomo di merda sono Ma per Dio Ma scusami Non ce la faccio Perché mi fai sempre ridere Quindi non lo so Non ti credo a priori Spero di non raccontarti Una cosa di brutta Della mia vita Che se no Veramente Immagino le risate Mentre parlo che non è morta Vabbè Jody intanto Sta scendendo il pornazzo Eh guarda Guarda Joe Dai proprio Veramente 10 su 10 10 su 10 È macabra Questa Questa inquadratura Comunque Zio Jody Di chi pensi che sia Questa storia Simone Come mai Perché Simone In generale Mi ha sempre Parlato di cose Successe all'oratorio No Cioè È credibile Che succeda questa cosa Perché Di te non lo so Questa cosa Però so che Simone Ha passato del tempo In oratorio Quindi boh Questa cosa mi fa E poi C'è la mia vita Psicologicamente La roba che tu hai detto Aspetta che la sto inventando Cercando di far Capire alla gente Che in realtà è tua Ma che in realtà Tu hai detto La sto inventando Perché veramente La stavi inventando Ma pensando che Dicendola sto inventando Stessi trollando Boh Quindi secondo me Ho fatto tutto un Sì sì Ho fatto tutto Non Non arrivo Non arrivo Il mio cervello Non arriva a questi Ragionamenti così lunghi Cioè tu sei molto più Intelligente di me No Tu hai detto La sto inventando Pensando di portare La gente A pensare Che non la stavi inventando Ma in realtà La stavi inventando Veramente forte Prima l'ha detto In modo molto più difficile Sì sì Prima tipo Almeno c'erano Altre otto invenzioni No ma Detro la stessa frase L'ha ripetuta Solo quattro volte di fila Quindi Ha andato Un po' Il confusione Io ho pensato Di avere 200 in più Ok Ok Bene Vez Ragazzi Insomma Aspetta posso chiedere a Simone Come sono andate le bad da lui Ti dico come sono andate da me 16 milioni a me 6 milioni a te Ma la frase è Chi mente o di chi è la storia La storia è di Quindi 16 milioni Quindi 16 milioni a te Ok Da me 320 Cioè 63 su di me E 37% su di te Ok Ok Allora Se posso innanzitutto Complimentarmi con voi ragazzi Perché avete raccontato due storie Veramente molto soddisfacenti E realistiche Per quanto mi riguarda Io non Non mi esporrò Ma dirò semplicemente Di chi era la storia Ah lo dici tu Ok Prego Allora Lo potete dire voi A me va bene Che lo dico adesso Va bene Va bene Va bene La storia Appena raccontata Sull'oratorio Era Quella vera Era quella Di Simone Ma vai Andiamo Ragazzi Io veramente Sono evangelico Ma chi cazzo Ha mai fatto L'oratorio Appena detto L'oratorio Ho detto Io non so niente Dell'oratorio Sono solo che forse Si gioca a calcio Cioè Dai Vabbè Bene Poi in generale Poi c'è un'altra cosa Da dire Provo molto poco Verosimile Che un don Possa Dare come punizione A un evangelico Proprio come sfregio Il fatto di farti stare In No Secondo me Secondo me Questa invece Non è così tanto assurda No Zio ma è impossibile È assurda È impossibile Perché se tu mi facessi Questo esempio Con qualche altro Tipo di Credenza Cosa così Ma in generale Non C'è nel senso Non è una cosa Non viene imposta La religione Come punizione Sarebbe un controsenso Cioè Anzi Cioè Il punizione Poteva essere Non vai più in oratorio Capito Cioè È il contrario Bene Va bene Oh direi che Sì l'hai raccontata bene Sì l'hai raccontata molto bene No Sarebbe tutti i due Molto bravo Beh io Non è che c'è di essere bravo Era mia Cioè La mia storia Che cazzo bravura era Vabbè Prima Coc non è stata molto brava A raccontare la verità A quanto pare Perché Coc non ha capito Un cazzo del gioco Ha cominciato a raccontarla Cercando di non farla credere Cioè Sei mutata eh Coc Sembra mia nonna in videochiamata E non ha neanche il telefono Mia nonna eh Per dire Nulla Niente Coc ci ha perso Coc non è che il microfono È sul pavimento eh Cioè Sei mutata Adesso va a cercarlo in frigo È lì Nulla Comunque Jody mi ha capito al volo eh Con la roba di Aspetta che me la invento Eh sì Sì Anche io Poi mi sono messo pure a ridere Veramente intelligente Vi sentite? Sì Mi era sparito tutto Che cazzo è successo? Eh era sparito tutto Chissà che cazzo è successo Non vi sentivo più Non fa niente Non fa niente Tranquilla Tranquilla Ragazzi Io vi ringrazio Vez Joel Etipetris Cocchi Gilbert Nanà Un grande Jody Grazie a tutti per essere presentati Spero vi siete divertiti Vi mando un abbraccione ragazzi Siete incredibili Grazie a te Assimo Grazie a voi ragazzi Ciao Ciao a tutti È stato un piacere A presto Buonanotte ragazzi Veramente forte Gilbert Buonanotte a tutti ragazzi Veramente forte Ciao Sei un top del top Mi sento solo sulle panche Tutto sembra più distante Sono lasciato come Anders Vedo un mondo così grande Dove un po' di più 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 Grazie a tutti